Cerchio e seno. I fenomeni fisici diventano sempre più rari. Devono lasciare il posto ai fenomeni di insegnamento. Il cerchio e seno in più di 40 anni di attività ha prodotto più di 4000 apporti. Alcuni non si sono materializzati compiutamente, come questa maschera che appare di buona fattura. Il completamento della materializzazione dopo la trance è raro.